Abbiamo scelto di partecipare a IT perché è la fiera più importante in Italia. La cosa che apprezziamo di più di IT Vicenza è l'estrema varietà e disponibilità di servizio che sono di livello veramente alto. La qualità dei visitatori è notevole. Abbiamo apprezzato di questa fiera soprattutto la buona organizzazione complessiva. Crediamo sia un'importante vetrina a livello nazionale per mostrare a tutti gli appassionati la nostra produzione e i nostri fucili. In questo momento oggettivamente la fiera di settore più importante che c'è sia per quanto riguarda la partecipazione dei cacciatori, sia per quanto riguarda i contatti di business con le armerie e anche per quanto riguarda la stampa di settore. IT è una fiera che ha saputo nel corso di pochi anni svilupparsi ad un livello straordinario, impressionando anche gli operatori internazionali. Per la qualità dell'evento, la professionalità dello staff e indubbiamente l'affluenza di pubblico che ci colpisce molto. La cosa che apprezziamo di più di IT Show è sicuramente l'organizzazione e la preparazione del pubblico stesso. Magari riteniamo sia una fiera molto importante oggi in Italia di settore, ha un pubblico di riferimento molto targettizzato sul mondo caccia e sicuramente attento a quelle che sono le esigenze del mondo venatorio. Siamo molto felici della presenza di un pubblico sicuramente attento a quelle che sono le novità e di un'organizzazione presso che impeccabile. Abbiamo l'opportunità di incontrare gran parte dei nostri clienti, dei nostri partner. IT Show apprezziamo soprattutto la possibilità di instaurare un dialogo commerciale con tutta la nostra clientela. Beretta partecipa a IT Show praticamente da sempre. Sicuramente IT Show è la fiera principale nel panorama italiano, per cui la cosa che apprezziamo di più di questa manifestazione è la possibilità di incontrare ormai 40.000 appassionati che vengono a visitare il nostro stand. L'incontro migliore che possiamo avere con tutti gli armieri italiani, le armieri italiane sono numerose a venire e con un gran successo popolare, quindi possiamo incontrare migliaia e migliaia di clienti e cacciatori appassionati. IT Show è sempre una bella manifestazione, non solo per la quantità di visitatori, ma sicuramente per il target, la qualità dei visitatori e ritengo anche degli espositori ovviamente. La cosa che ci è piaciuta di più di IT Show è stato poter incontrare i nostri clienti che sono le armerie e poter mostrare loro la nostra nuova produzione. Credo che la cosa più bella di IT Show sia il vedere la passione del nostro pubblico e che li spinge a venire anche da molto lontano e questo ci dà la carica per il futuro. Grazie a tutti.